Non c'è niente di meglio dell'originale. Come System Partner Leader per utensili di qualità, abbiamo fissato i più elevati standard di precisione e capacità di consegna. Con la stessa ambizione, ci occupiamo nei Technology Center di Hoffman Group dei vostri utensili di asportazione truciolo usati. Anche nella riaffilatura e nel rivestimento potete contare su un servizio professionale. Il Technology Center di Hoffman Group è sinonimo di qualità allo stato originale nella rilavorazione dei vostri utensili di asportazione truciolo Garant. Ciò rappresenta per voi una garanzia per maggiore produttività e sicurezza dei processi. Alla Michelle e Brown, dopo un lungo periodo di osservazione, è stato dimostrato che gli utensili di asportazione truciolo rilavorati presso un comune riaffilatore raggiungono solo il 15% della durata di un utensile nuovo. Ora, con il passaggio al Technology Center di Hoffman Group, gli utensili riaffilati raggiungono oltre il 90% della durata di un prodotto nuovo. Hoffman Group ci mette a disposizione gratuitamente le sue custodie arancioni. Qui vengono collocate le frese usate, riposte in alloggiamenti protettivi in espanso rigido. Hoffman Group ritira le scatole gratuitamente. Una volta riaffilate e rivestite, le frese ci vengono riconsegnate e sono pronte per un nuovo utilizzo. Sembra quasi di lavorare con un utensile nuovo. La particolarità di questo servizio è che nel Technology Center di Hoffman Group, gli utensili non vengono semplicemente riaffilati, ma lavorati in modo rapido e preciso nella geometria originale sulle macchine di produzione originali. E questo a prezzi competitivi e soprattutto accessibili. I nostri specialisti sono in grado di riportare i vostri utensili alla qualità originale. Solo così otterrete la massima efficienza. Un ruolo importante lo svolge la geometria originale. Per questo la troncatura dell'utensile e la nuova affilatura frontale fanno parte del nostro servizio standard senza sovrapprezzi. Al fine di raggiungere un risultato ottimale, dopo la troncatura del tagliente frontale, l'utensile viene inizialmente preparato e affilato in una rettifica a 5 assi. In seguito, il tagliente frontale viene affilato completamente rispettando gli angoli di spoglia originali. Su richiesta è possibile ricevere per gli utensili affilati un protocollo di misurazione con cui determinare la precisione del raggio e del diametro dei taglienti, la lunghezza dei taglienti, la posizione e la forma dei gradini, la dimensione e la lunghezza dei biselli. Riponiamo grande attenzione anche nel rivestimento originale degli utensili riaffilati, perché solo un corretto rivestimento, abbinato ad un'esatta geometria, garantisce prestazioni di taglio ottimali. La qualità del rivestimento viene poi testata con esattezza di micrometri grazie a una macchina speciale. Gli utensili che vengono rilavorati nel Technology Center di Hoffman Group non solo sembrano nuovi, ma raggiungono quasi la durata di un prodotto nuovo. Non si tratta di una coincidenza. Per mantenere questo alto livello di qualità e tempi di fornitura brevi, abbiamo creato nel Technology Center un servizio di riaffilatura, in cui, nello stesso stabile, possono essere realizzate sui vostri utensili di esportazione truciolo dai nostri fornitori sia le geometrie di tagli originali che i rivestimenti originali Garant. Questo vi dà la sicurezza di poter utilizzare i vostri utensili di asportazione truciolo anche dopo la riaffilatura con gli abituali alti parametri di taglio Garant e questo con una durata dal 90 al 95%. L'elaborazione degli ordini per tutta Europa è gestita e coordinata a livello centrale da un team di esperti. Ciò consente di risparmiare tempo e costi di trasporto e vi garantisce un know-how tecnico di altissimo livello. Ogni utensile a fine lavorazione viene ispezionato e confezionato accuratamente come se fosse nuovo, perché in termini di geometria e rivestimento lo è davvero. Tornati al cliente, gli utensili di asportazione truciolo Garant riaffilati nel Technology Center di Hoffman Group possono essere utilizzati immediatamente perché la geometria identica a quella originale consente di impiegare i valori di taglio programmati inizialmente. Non è più necessario un adattamento del numero di giri e dell'avanzamento. Il Technology Center di Hoffman Group è sinonimo di qualità allo stato originale nella rilavorazione dei vostri utensili di asportazione truciolo. Ciò rappresenta per voi una garanzia per maggiore produttività e sicurezza dei processi perché non c'è niente di meglio dell'originale.